Ok, buongiorno a tutti, faccio un breve video per raccontarvi una cosa che mi fa molto piacere e per la quale sono molto contento. Il 2024 è appena iniziato, oggi è 3 di gennaio e come Greenwood Italia abbiamo un'ottima novità per tutti i nostri clienti. Sono felice di annunciare che da questo mese avremo la possibilità, oltre ai prodotti eccellenti che già distribuiamo, la possibilità di distribuire uno dei migliori brand di moduli fotovoltaici in assoluto. Parliamo di un brand top top top. Ora per motivi di riservatezza con l'azienda non sono ancora autorizzato a fare il nome dell'azienda e del prodotto, però se ti fa piacere senza impegno saperne di più e chiedermi in maniera privata di che brand stiamo parlando e a che condizioni di vendita, sono qua a posto. Un saluto a tutti da Marco Faieto, esperto nei fotovoltaici. Ciao ragazzi, non perdete questa opportunità top 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 a condizioni super mega galattiche di rilancio. Grazie a tutti.